Consigliere Capezzone, alcuni colleghi di minoranza hanno contestato le sue azioni durante l'ultimo Consiglio Comunale qui a Benevento, ci può illustrare le ragioni delle sue scelte? Ma io queste contestazioni per la verità non le ho sentite, forse qualcuno pensa che Capezzone può essere portato al guinzaglio, ma tutti sanno che non è così. Le mie scelte servono a tutelare per quanto possibile una città che sta sprofondando, che ha mille difficoltà, che sta affondando, ora ci vogliono togliere la prefettura, insomma la stanno smontando pezzo pezzo questa città, ovviamente i beneventani, i cittadini, le famiglie, le imprese ne risentono e allora uno che vuole fare politica, perché io non so se continuerò, ancora non ho deciso perché francamente il peso, la fatica della politica si sente soprattutto quando non ci sono vie d'uscita, allora bisogna cercarla questa via d'uscita e qual è la via d'uscita? La propaganda dei partiti che sino oggi non hanno mosso una sedia e hanno rotto quelle che c'erano disponibili? O la propaganda di chi dice risolleveremo le sorti della città? No, ci vogliono fatti concreti, se non ci sono fatti concreti, se non si risana il comune, se non si immagina una finanza per il cittadino, un servizio per il cittadino, se non si dà una prospettiva ai giovani, è inutile fare chiacchiere, io francamente mi sono stancato. Quindi questo tatticismo distruggetivo per far che? Per fare che cosa? Per colpire gli apparati contro gli apparati, a me non sta bene perché non è che gli apparati di centrosinistra, poi contrapponiamo gli apparati di centrodestra per fare peggio di quello che hanno fatto prima. Allora rispetto a questo o le energie forti, sane, capaci della città si mobilitano in un percorso che può essere con i partiti, senza i partiti, ma che deve essere caratterizzato dalla soluzione delle questioni.